Io mi associo all'indignazione di chi in questa mattinata ha espresso esattamente quello che i cittadini pensano. Noi siamo un Parlamento di burocrati quando fa comodo e un Parlamento di bla bla quando non fa comodo alla maggioranza. Siamo veramente vergognosi, le regole vengono usate solo quando fa comodo e io vorrei ricordare alle persone che stanno in centro che sono ancorate a un'idea vecchia. Voi siete dentro un'idea vecchia ideologica di destra e di sinistra. Il bene dei cittadini e le decisioni di buonsenso non sono né di destra né di sinistra e mi dispiace veramente dirlo a lei, signor Weber. Oggi il buonsenso lo dimostrano i partiti alle sponde opposte di questo Parlamento. Non certo voi lì al centro. Grazie a tutti.